Ma c'ha gli frarossi accesi? Ma quell'altro capo tu? Sto dentro Intorno non c'è nulla Riesci a accenderle tutte? Sei qui vicino a noi? Ti ha dato fastidio la persona che è passata? Riavvicinati è andata via la persona Ti puoi avvicinare a noi? Illuminarle tutte come prima Tutte fino al rosso Ce la fai ad illuminarle fino al rosso? Ancora un po'? Dai ancora un po'? Non fa lo zoom solo su questo Fai vedere che non ci abbiamo vicino niente Adesso faccio un giro intorno Allora Stiamo in mezzo In mezzo alla via Stiamo sotto a una chiesa Si intravede In mezzo a una via Dove intorno non c'è nulla Non c'è nulla Ci hai seguito dal locale? Eri per strada? Eri già sulla strada? Riavvicinati a noi Non ti allontanare Non avere paura Riescere ad avvicinarti a noi? Sei solo qui? un dato è qui daccio il segnale più forte se sei qui si il segnale più fintano sei un bambino giocavi su questa via tanto tempo fa quanti anni hai? uno un anno hai acceso sei volte la luce però sei anni hai sei anni accendilo tutto tutto dici sì dai ci riesce tutto? guarda fino a quella rossa hai sei anni? sei solo? i tuoi genitori non sono qui tuoi genitori non sono qui non sono qui sei con qualcuno qui con noi perché ti sei fermato qui vicino a noi? vuoi chiederci qualcosa? cosa vuoi chiederci? ti serve aiuto? ti senti solo? vuoi giocare? vuoi giocare con noi o giochi con altri amichetti tuoi che sono con te abitavi qui in una di queste case? non ci abiti ancora? sei andato via? non abita giocavo in questa chiesa? sono andato non abita qui in un'altra chiesa? non abita qui in un'altra chiesa? non abita qui in un'altra chiesa? sei seduto o sta in piedi qui davanti a noi? sei in piedi? non abita qui in un'altra chiesa? ti vado a giocare? Buongiorno a tutti. Ci mandiamo? Ok, andiamo via. Sta cercando. Stiamo cercando un'eventuale traccia di energia che potesse spiegare la breve comunicazione che abbiamo avuto con questa entità. Non si capisce la provenienza però. Vicino agli edifici niente. Andiamo avviamo. Allora, diciamo. Andiamo. Persone sedute, semplicemente sedute sui gradini di una chiesa. Stanche della passeggiata, visto che è tutto il giorno che passeggiano per i viali del fese. Infatti, guarda. Stai capito? Testo per niente? Riprendi, Ciappolo mi ha camminato sopra e se ne sono nati. Occhio, mi rilevo. Stai a nudo a menare. Troppo loso che va. Riprende. Si sono rimessi a sede. Però uno solo, a quanto pare. Prima era più potente. Curioso. Guarda, la staglitezza. E' troppo veloce. Se stanno a cacchiere. Se stanno... E' meglio che... Poi scende pure il mio, guarda. Se stanno in piedi. Non lo so. Sembra nervoso, però. Adesso si è tranquillizzato. Ti sei tolto. Tu non c'hai telefonini, no? Aspetta. Aspetta. Anzi, aspetta. Controllo. No. Andiamo sempre... Scartiamo tutto il possibile. Ah, nemmeno in tasca. Io l'ho messo in merce. Ci ho. No, no. Proprio poi non c'è niente. Non c'è un filo. Non c'è una... Un'altra volta. Tu non ti stai nervosi che stiamo là. Ti sei messo proprio sopra. Ti sei messo proprio sopra. Ti sei messo... L'hai ripreso? Lo sei riuscito a ripresare? Sì, sì, sì. Sì, sì. Ma è chiaro. Quando ci sta seduto sopra... Non... Non scartano. Adesso è qui le finestre o scartano? Eh. Probabilmente abbassarlo verso il pavimento. Verso il pavimento. Non c'è. Quindi manca di... Manco toccano. Manco toccano. Un po' proprio seduto. Un po' sulla seduta. Ecco. Ecco. Poi mettici tutto da te. Poi mettici solo una mano. Invece che... Prendi la versatica. Eh, certo. Non c'è più ingente. Vabbè. Come al solito. Aspetta che qui c'è un tombino. Riprendi. Proviamo ad appoggerlo sul tombino. Ecco qui. E' chiaro che non proviene dal tombino, non c'è nient'altro, ci sono altre due cose lì, vediamo qua, prova su quelli altri due, ci sono altri due tombini, vediamo se producono niente, come al solito a livello terra dove passano i cavi non c'è nessun segnale, ancora una volta al mezzo al nulla c'è qualcosa che ci segue Grazie